La ratifica già approvata dal Senato numero 3944, ratifica di esecuzione dei seguenti accordi. Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte la Repubblica dell'Iraq, dall'altra con allegati fatte a Bruxelles 11 maggio 2012. Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte la Repubblica delle Filippine, dall'altra. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire oralmente, a facoltà di intervenire la relatrice Quarta Pelle Procopio. Prego. Grazie Presidente, chiedo di essere autorizzata a depositare la relazione. Autorizzata. Il rappresentante del Governo si riserva, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avverto che non si darà luogo a repliche. Passiamo quindi all'esame degli articoli, non sono stati presentati emendamenti. Articolo 1, dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Turco. Abbiamo altri. Magorno. Magorno ha votato. Qualcun altro, non mi pare. No, Villarosa. Villarosa, poi c'è qui il collega. Mi pare che abbiano votato tutti, sì. Dichiaro chiusa la votazione. 312 favorevoli, 102 contrari, la Camera approva. Articolo 2, se non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione.